Venerdì 20 maggio 2016 alle ore 21 presso la palestra di Pombio in via Greco 2 si trarà una serata intitolata Una sera a casa di Chiara. Il tema è quello della violenza sulle donne e siamo con Cinzia Zerba, organizzatrice dell'evento. Ecco, le va di raccontarci in che cosa consiste questa serata. Lo spettacolo è realizzato sul tema del femminicidio, quindi vengono portati in scena un ridin teatrale musicale nel quale il gruppo Gatto Matto di cui faccio parte porta in scena delle letture interpretative e la maggior parte di queste letture tratte dal libro della Serena Dandini, Ferite a morte, che è appunto una raccolta di racconti che la Serena Dandini si immagina scritti e monologhi, sono praticamente interpretati da queste donne che hanno subito violenza e sono state uccise per mano appunto di mariti, fidanzati violenti, eccetera. Per cui noi portiamo in scena queste letture interpretandole. Lo spettacolo sarà anche fatto, diciamo, da canzoni. Quindi ci sarà, diciamo, un mix tra parole e musica, non sarà soltanto poesia, non sarà soltanto interpretazione di ciò che ha scritto Serena Dandini, ma ci saranno anche degli intervalli musicali, è corretto? Assolutamente sì. Infatti si mettono in gioco anche le ragazze dell'associazione in prima persona, il presidente Cristina Buffelli e la vicepresidente Ilaria Fontana, che canteranno e appunto aglieteranno anche il pubblico con canzoni a tema, canzoni comunque per la maggior parte scritte da donne o per donne. Anche perché insomma la musica italiana anche proprio in generale ha delle pagine importanti relative a questo tipo di tematica, no? Tantissimi grandi artisti hanno scritto a riguardo. Mi viene in mente De Andrè, ma insomma ce ne sono tanti altri. Infatti una delle canzoni sarà appunto quella di De Andrè, per esempio, verrà cantata a bocca di rosa, oppure un'altra della mia Martini, insomma diciamo che lo scenario musicale effettivamente è molto nutrito su questo argomento. Ecco, so che durante lo svolgimento dell'evento una sedia tra il pubblico, che stiamo già vedendo, rimarrà vuota e sopra di essa verrà appoggiato un cappello rosso. Che significato ha questo gesto? Esattamente, allora il significato è quello di mantenere il posto occupato, infatti Chiara aderisce a questa iniziativa. Posto occupato perché? Perché è occupato per la donna che non c'è più. Simboleggia praticamente l'impossibilità delle donne che sono state uccise per mano di questi uomini violenti e quindi noi in questo modo vogliamo ricordare e dare visibilità anche a chi non c'è più, in qualche modo. È una serata che voi state organizzando e che fa parte di un recital, quindi è un estratto, diciamo, chiamiamolo così, di un recital intitolato Provate voi a essere donne, che ha creato il gruppo Gattomatto, del quale tra l'altro più tardi parleremo e questo recital lo state portando proprio in giro in alcune località della nostra zona, è corretto? Sì, esattamente. Cioè questo in realtà è un reading teatrale, appunto, Provate voi a essere donne. Il titolo l'abbiamo tra virgolette rubato a una nostra cara amica, che è Barbara Garlaschelli, una scrittrice del Piacentino, che ha anche partecipato al premio Strega. E appunto con questo titolo vogliamo in qualche modo sottolineare la difficoltà di essere proprio donne, quindi i sopprusi, le violenze, ma non solo, insomma. E appunto Gattomatto porta in giro in questo momento in vari comuni, fino ad ora siamo stati a Torrazia, l'abbiamo portato il mese scorso a Borgarello, lo porteremo a Retto Orbido e a Montalto. Porta appunto in giro questo spettacolo, della durata all'incirca di un'ora, che è uno spettacolo molto più ampio rispetto a quello che vedremo il 20 e che quindi... Consigliamo di andare a vedere, anche perché è lo spettacolo completo, quindi insomma chi verrà incuriosito della serata di venerdì potrà poi recuperare lo spettacolo completo in altre occasioni. L'abbiamo detto, il gruppo Gattomatto organizza insieme all'Associazione Chiara questa serata. L'Associazione Chiara ha questo nome, che in realtà è un acronimo, ovvero chi ha in vano atteso riceverà aiuto. Lei fa anche parte dell'associazione. Le chiedo a quante donne ogni mese date aiuto e quali storie vi portano e vi raccontano? Beh, le persone, le donne che aiutiamo tutti i mesi sono veramente tante. È brutto da dire perché chiaramente questo è un dato che è abbastanza allarmante, soprattutto se consideriamo che sono tutte donne del territorio, per cui insomma anche di Voghera stessa, a qualcuna viene anche da fuori. Tutti i mesi diciamo che si organizzano degli incontri presso il nostro sportello e riusciamo a dare supporto psicologico, supporto legale. Vengono appunto fatti questi incontri e le storie che ci raccontano sono veramente molto pesanti, tant'è che in alcuni casi queste persone vengono anche accolte in una casa protetta, nei casi diciamo più gravi, più pesanti. Ecco, è importante tutelare questo genere di associazioni e di iniziative, secondo me. Dicevamo promuovere e diffondere l'amore per la lettura interpretativa è lo scopo del gruppo di lettura Gatto Matto, l'abbiamo anticipato prima, che organizza lo spettacolo insieme all'associazione Chiara. Partendo dal presupposto che interpretare è una bella responsabilità, come è nata l'idea di questo gruppo e chi ne fa parte? Allora, l'idea è nata per la grande passione che ci accomuna. Noi siamo una decina di amici, tutti accomunati in primis per la lettura in generale e poi per la lettura interpretativa. Abbiamo frequentato nel corso degli anni diversi laboratori di lettura interpretativa e siamo accomunati da questa passione che abbiamo voluto in qualche modo trasformare in una forma artistica, perché comunque crediamo che sia importante anche trasmettere dei significati importanti, come in questo caso abbiamo l'intenzione di proporre altri spettacoli anche per l'anno prossimo su altre tematiche e quindi l'idea è quella proprio di svilupparli e nel caso anche di trascriverli direttamente, cioè come è stato fatto per questo spettacolo. Come è stato fatto per questo spettacolo avremmo intenzione addirittura di riscriverlo. Molti di noi scrivono, tra l'altro noi abbiamo anche con noi la scrittrice locale Viviana Gabrini. Venerdì leggeremo anche un suo racconto e quindi insomma avendo anche delle risorse interne ci piacerebbe fare questo genere di lavoro. Assolutamente, dunque per il momento l'appuntamento è quindi venerdì 20 maggio la palestra di pombe in via Greco 2, invitiamo tutta la cittadinanza e ricordiamo che l'ingresso è ad offerta e che tutto il ricavato verrà devoluto poi proprio all'Associazione Chiara. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.